Da quando insegnò Fumotti è diventato sindaco, molte cose sono cambiate. So che è difficile da credere, ma la storia vera non è quella che ti hanno raccontato. E Fumotti è solo l'ultima pedina di questo complotto e temo sia estremamente pericoloso. Non lasciarti ingannare da lui, non è quello che sembra. Che cazzo volete da me, stronzi? Sì, conosco la tua missione, ma se non mi aiuti il destino di questo pianeta sarà segnato. Non possiamo farci ostacolare da quell'essere, dobbiamo sbarazzarcene. Che cosa mi nascondi? Tu ora mi dici tutto quello che sai. Mio signore, quali sono i miei? Avevi ragione su Fumotti, non è quello che sembra. Qualcosa si sta avvicinando. Qualsiasi cosa sia quell'essere è stato programmato con un solo scopo. Recuperare la singolarità ed eliminare chiunque si metta di traverso. Questo pianeta è la nostra casa, noi lo lasceremo distruggere. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo! Pronto! 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 Grazie.